L'associazione Change the Game è nata alcuni anni fa proprio per il contrasto a ogni tipo di violenza nello sport. In questo momento siamo orgogliose e fiere di seguire tantissime atlete della ginnastica sia ritmica che artistica e anche molti istruttori che hanno capito di aver sbagliato. Abbiamo superato le 200 segnalazioni nell'ambito della ginnastica ritmica e artistica e assistiamo queste ragazze e le loro famiglie in tutte le sedi sia della giustizia sportiva sia penale e anche in termini di assistenza terapeutica per cui siamo al loro fianco ogni minuto, ogni secondo, ogni giorno e questa è una cosa che ci rende orgogliose. Abbiamo in programma per gennaio un incontro con il presidente Gerardo Tecchi al quale vogliamo portare questo patrimonio perché è un patrimonio queste parole, queste storie, queste ragazze in qualche modo che hanno deciso di esporsi, di mettersi in luce, di aiutare a capire anche le conseguenze dell'abuso. Le conseguenze dell'abuso sono a vita e quasi tutte sono in terapia, anche numerose istruttrici e alcuni istruttori. Quindi vogliamo aiutarli a capire, vogliamo aiutarli a cambiare, quindi metteremo tutta la nostra esperienza cercando di avere un po' di fiducia anche nelle istituzioni. È un problema trasversale a tutti gli sport. Forse cambia il tipo di violenza. Nello sport abbiamo varie facce della violenza. La violenza può essere emotiva e fisica, come nel caso della ginnastica, sia ritmica che artistica, ma può essere sessuale. Ci possono essere casi di negligenza. Quindi la violenza nello sport ha molti volti. Si cerca di tenerla coperta perché in fondo i minori, i ragazzi, i ragazzi, gli adolescenti sono in qualche modo macchine per la competizione. Quindi sono spesso oggettivizzati. Dobbiamo ribaltare questa cultura e mettere al centro i bambini e le bambine di un progetto sportivo che abbia dei valori e che ha secondi una crescita armoniosa, felice e sana di ogni bambino. Il mondo sportivo ha tante luci anche, però ha anche molte ombre. Per il rischio è che queste ombre prendano il sopravvento. Per questo è importante cambiare, ribaltare la cultura, rivoluzionare i sistemi, anche di training dei tecnici e dei coach. Vuol dire ripartire, ricominciare, perché queste vicende sono dolorose e non possono essere affrontate sempre quando si sono già compiute. Quindi il nostro obiettivo è quello che si possa fare una prevenzione reale perché nessuno debba soffrire, anche perché poi alla fine queste vite sono in qualche modo spezzate per sempre. Tutte queste storie mi sono entrate nell'anima e nel cuore, però ce n'è una che mi dà e che ci dà il senso di tutta questa vicenda, di una ragazza meravigliosa che fa la ricercatrice all'estero, una brillante carriera e anche molto bella. Ha iniziato la sua testimonianza dicendo sono una ricercatrice, penso anche di essere una bellissima ragazza, eppure non ne sono convinta, non lo so, perché tanto tempo fa la mia autostima è stata ridotta a zero e ancora ho tante incertezze, insicurezze, paure. È un po' questo il significato che dobbiamo cercare in ogni storia, la distruzione dell'autostima.